Sicuramente siamo entrati in campo per fare una grande partita, individualmente ognuno doveva cercare di dare il meglio, ma la grande partita è venuta perché abbiamo fatto una grande partita in collettivo, tutta la squadra con determinazione, con aggressività, tutta la partita fino all'ultimo minuto, questo è sicuramente chi ci ha dato la vittoria. Quindi siamo molto contenti, il gol è venuto da me ma poi l'avessi fatto chiunque altro, il merito di tutta la squadra perché abbiamo fatto una gran partita. Raccontaci un po' con noi. Ci ho creduto fino alla fine sul difensore che già alla zona precedente me l'abbia tirato addosso, sono riuscito a recuperare questo pallone e ho provato il tiro subito. È andata bene, è andata nell'angolino, è contentissimo, gioia incredibile soprattutto per primo gol al martello.